Dal 23 aprile è operativa la nuova tratta Lingotto-Bengasi della linea 1 della metropolitana torinese. 1,9 chilometri di tunnel sotto Vianizza, due nuove stazioni Italia 61 Regione Piemonte e Bengasi, con la stima di ridurre il traffico automobilistico di almeno 10.000 auto. Ora si può compiere l'intera tratta dalla stazione Fermi di Collegno alla stazione Bengasi di Torino alle porte di Moncaglieri in 25 minuti, attraversando in tutto 23 stazioni. Ora in Fratò si dedica al completamento del tratto fra Collegno e Cascinevica. Collegno e Cascinevica è già una realtà di questo momento, perché noi stiamo lavorando e l'obiettivo è di poterla consegnare alla città metropolitana nel primo semestre, alla fine del primo semestre del 24. Ci sono due ancora proposte, sempre sulla linea 1, di poter proseguire la tratta a ovest arrivando fino a Rivo di Centro e qui, se ovviamente il Governo ci supporta, per arrivare oltre Moncaglieri e invalificarci nella strada, nella parte sud della zona di Torino. Tolto questo, ovviamente c'è la linea 2. La linea 2 è partita la presentazione definitiva e a giugno cominciamo a fare i carotaggi per capire la consistenza dei terreni, dove trasportarlo per quella che sarà la futura talpa che realizzerà la tratta. Grazie a tutti.